Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, ventesima missione di GTA V Siamo ancora con l'Fib, con Dave Norton, che la scorsa missione ci ha fatto fare un risveglio poco carino Dove abbiamo poi dovuto sparare in un ospedale, purtroppo sì, la verità E oggi siamo di nuovo qui con l'Fib, niente, like, iscrizione, campanella, tutto quanto, lo sapete Restate aggiornati perché c'è veramente tante cose da fare, guardate qua la mappa Capite bene, no? Ecco, quindi, supporto prima di tutto E andiamo Ma scusate, dovevo Dipende, quanti soldi c'ha? 500, guarda, te li ridò, sei qui, te li ridò 50 Utilissimi questi 50 dollari Bella sta macchina di sangue Dave Norton dovrebbe essere sopra Se non vado errato, esatto, quindi devo fare il giro Too close Too close Andiamo, andiamo, andiamo Too close Che enorme Questo edificio qui è enorme Bravi, fatemi nel giorno, avete capito Ehi, Michael David Wow, non è così bello, non mi dicevi che stavamo a double date Scusate ragazzi, questa parte di un po' di amico è tutto mio Ha ha ha, brillante Steve Haynes, amico, ma probabilmente avessi questo già Scusate, il tuo nome tag vuoltre ha fallo I radiazioni, eh, Trevor style Andres, taking notes, this stuff, wow, pure magic Maybe I should put it on my show Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third rate country club? So Well done with our friend, Mr. K My pleasure I love helping our government wage war Especially with itself But you made a mistake Did I, Cupcake? Cupcake? Zucchini a Cupcake The joke stopped now, pal You will show me and my team So I suspect Maybe you could define team for me Is that just the three of you? Or the greater FIB Or the entire government Because I'm tempted to argue that thus far We haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect Why don't you start with me, genius You got it, pal Michael, stai sul culo a un po' in di gente No, per sapere I received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station I just dealt with that guy The agency is stepping up their questioning Because of your moronic antics down at the coroner's office We need to get him out of there before he blabs I did what Agent Norton said Then I guess you getting involved with a clapped out old agent Who's been living off of past glories was your first mistake You are my boy now, amigo My career depends on this And that's very important to me So seeing as we're all boys now That makes it important to you Now run along, kids See, there you go, Dave You can't teach an old dog new tricks Let's go See, but oggi... The Bureau of the West Covington Supplies off El Rancho Can you take us there? Yeah, sure Sounds like... What can I do? What kind of place you'd run in off the books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed, that's so And we all like our federal government open and transparent Except when closed and opaque suits you better Hey, I'm just a puppet You're the one pulling the strings Oh... Nice car Taxpayers are treating you right Altro diecione But qua te ne sta tirando, zi I need you to make a couple of calls Get some people on board First guy is Franklin Clinton Hey, I barely know that kid He's fixing up my car Call him Or we'll send some G-Men to his aunt's house Okay Okay Mike, this ain't the best time I'm kinda busy Questa è una missione molto importante Perché qua finalmente è per la prima volta Dopo 20 missioni pari pari Compensa questa Anzi 20 perché c'è anche il prologo Quindi anche 20 passate volendo Se vogliamo fare un calcolo più generale Avremo tutti e tre i personaggi Insieme nella stessa missione That's a dumb move, Dave Real fucking dumb Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station Clinton is going to be positioned across the street Keeping an eye on the proceedings Phillips flies you in Rappel down Make the extraction And I'm the best guy you got for this With you Wow We've got good leverage Hey And you brought Trevor in We're telling them I'm all cozy with the F.I.B. Trevor Sicuramente sarà già lì Yeah, I think I will See you later Who's that cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, alright? No, they're not recambiato il vestito Enough with the full political bullshit Franklin Come on, you better take off Really? Shit, I'm good I ain't building Whoa What am I detecting some, uh Some sort of, uh, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen If you want to replace some father figure You can do a lot better than this fat snake, alright? This fucker would eat his own kids Like I said, Franklin, deranged Yeah, and best friend Exactly That's Trevor, my best friend That's Franklin The son I always wanted All right, guys, listen This is the shot I'm gonna do all the heavy lifting on this This job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target Franklin, you're gonna cover me from across the street We're gonna make these assholes happy And we're gonna walk away from this thing clean Got it? I got you All right? And we do this And they help us bring Brad Yeah We'll talk about Brad later, alright? I gotta change They grab a head start Eh, chissà perché parliamo later di Brad Yeah, whatever The government gimp at last Eh, bite me Let's go All right, let's do this thing We need to go to the agency headquarters downtown This missione qua, ragazzi, sarà Super mega ipertosta Ma sarà anche molto divertente Your new friends are a riot No wonder you said sayonara to the old crew Walking away ain't easy, Trev Sometimes I guess you gotta make compromises What happened to dying with a gun in your hand? Life happened Annoying white Two kids Remember them? You get tied down You can't move anymore What about your ties to me? The brass Those ties and why you got roped in on this FIB Instigated suicide fact Si, ricordo Che c'era a parcheggiare sul tetto Quello si Non è la prima Ma è la seconda torre I'm going in on the west side of the tower Get us in position I'll drop Yes Yes Ok A posto Non dovevo scendere Ho detto una cazzata incredibile Ma comunque Che era la seconda torre Era vero Allora In che l'avrei tipo già tutti i bucati quanti E qua ci sarà una persona che voi conoscete benissimo Che è questa Kate Di United Liberty Paper La famosa Michelle di Nico Stronze era stronzia rimasta No No Ah così Mi lo metteva nel culo Ridevo troppo Bello Dio Oh Non ricaricava sto stronzo Ok qua è un pochino più comodo E insomma Minchia ora Quanti sono Ok non prenderò sicuramente l'obiettivo colpi sulla testa Perché Vedi capito dai Fuori uno Vai Mano fuori Perfetto Ok Dobbiamo essere Ok Perfetto Fuori Ma che blimp Non ci arriva Come in Come in Franklin This might be the time to make your exit We'll talk soon Who are you people That doesn't matter They said they were government I do home theater I'm not a I don't care who you are Now why are you doing this to me E te vogliamo morto You saved me Thank you Thank you Don't mention it The bureau The FIB They will make Everything okay Ovviamente Ah si si può far cambiare I'm sure Don't worry A Michael Speriamo di non crashare l'elicottero Speriamo di non crashare l'elicottero Speriamo di non crashare l'elicottero Hey hey I said easy Come on Give the guy a break I'm gonna get out of this shit Haha In bed with the bureau And a new running buddy Yeah He's more of a protege Yeah What You gonna teach him to be old Before his time Yeah To never grow up That seems like a good kid Michael Look at this Ah New city New set of problems But the idiots They stay the same Yep I guess Alright Trevor See you later Oh you better believe my buddy E così se andò Però Aspettate raga ma Ci voglio provare No Andate a finire male Vabbè Vabbè T'ho fatto Eh lo sapevo Dieci Colpi la testa Chiedevo Ok Cesemo Che mezzo di merda Comunque grazie ragazzi Like al video Iscrizione al canale Noi ci vediamo per la missione numero 21 Che Dovrebbe essere Da manuale Proprio il nome Ma non si sa mai Potrebbe essere anche il primo approccio Al colpo alla Mary Weller Potrebbe essere ragazzi Veramente tante cose Lo scopriremo insieme Grazie ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima